Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Chiara Ferragni potrebbe davvero partecipare a Ballando con le stelle? E' questa la domanda più gettonata degli ultimi giorni, dopo che un'indiscrezione ha parlato del serrato corteggiamento di Millie Carlucci nei riguardi dell'imprenditrice. Il cast di Ballando con le stelle 2024 dovrebbe essere quasi al completo. Secondo alcune indiscrezioni, in questi mesi Millie Carlucci ha corteggiato in maniera piuttosto serrata Chiara Ferragni. L'imprenditrice avrà accettato di diventare ballerina, stando a quanto sostiene Dago Spia, nonostante il corteggiamento serrato di Millie, Chiara Ferragni ha rifiutato Ballando con le stelle. L'imprenditrice ha preso questa decisione dopo mesi e mesi di trattative e non ha alcuna intenzione di cambiare idea. Il fatto che Chiara Ferragni abbia rifiutato Ballando con le stelle è un bene. Anche se il suo ritorno in tv, il primo rilevante dopo il caos del Pandoro Balocco, sarebbe stato un colpaccio, avrebbe potuto creare il cosiddetto effetto boomerang. Dopo la finta beneficenza e le indagini di Selvaggia Lucarelli sul mondo degli influencer, quanti frequentano il mondo social hanno iniziato ad aprire gli occhi e sono stanchi del mondo patinato o stentato.